Partono i lavori qui in un polo scolastico dedicato al contrasto alle mafie e alla malavita organizzata. Il teatro Giovanni Santi è una ciliegina sulla torta, diciamo, perché sarà un teatro di 330 posti al servizio delle scuole di Pian del Brusco, con 1300 ragazzi, tutti grandini perché prima, seconda, terza media, e poi delle scuole elementari, materne. E sarà un teatro certamente di Vallefoglia, certamente prima di tutto per le scuole, ma anche per le bande, i cori, le compagnie dialettali, i gruppi musicali, le scuole di musica, perché la scuola di musica di Pian del Brusco, metà di quei 1300 ragazzi sono di Vallefoglia. E poi sarà un teatro che consentirà nella rete dei teatri marchigiani, in quest'area dove esistono, pur in 4-5 comuni, oltre 50.000 abitanti, finalmente avranno un teatro, certamente non come il Rossini Opera Festival, non come il teatro di Fano, però un bel teatro, teatro sobrio, dignitoso, un luogo per la musica, per il cinema, per il teatro, per le attività culturali, sociali, teatrali, per tutte le evenienze. Qui siamo alle mie spalle, a un tiro di schioppo dal polo scolastico di Pian del Brusco, dalla piscina, da tutti quelli che frequentano quell'area, che sono tantissimi, e finalmente Vallefoglia avrà anche il teatro. Quali saranno i materiali che verranno utilizzati e quanto tempo ci impiegheranno per ultimarlo? Diciamo che hanno un annetto di tempo, se tutto va bene, nella primavera 2023, cioè tutto il 2022, perché ormai siamo a Natale, e potremmo avere la possibilità di iniziare a utilizzare questo teatro. Cominceremo a pensare a breve anche alla gestione, al funzionamento. E' imprefabbricato, quindi tutto sommato dovrebbe essere una struttura anche più agevole per realizzarla. Speriamo bene, insomma, che si possa avere, diciamo, per il prossimo estate il nuovo comune e per l'altra primavera il nuovo teatro.